Ragazzoni in questo video aiuteremo Carli a finire Minecraft, sarà difficile ma altrettanto divertente Io vi invito a iscrivervi, lasciare like e a seguirmi su Instagram se ancora non l'avete fatto E ci vediamo stasera alle 8 e mezza in live Ragazzoni... dimmi? Scusa avevo un ruttino No no rutta rutta Hai ruttato? Si ci sono Ragazzoni in questo video finiremo Minecraft ma non sarò da solo e aiuterò Carli nel finirlo Ehi ciao sono Carli Carli hai mai finito Minecraft? Si una volta con Ale basta prima e ultima volta Mi stai rubando la legna? Carli mi hai rubato la legna? Scusa no non è vero l'hai presa tu io non ho preso niente Allora l'importante è finire Minecraft in meno di un'ora se non è quanto tempo ci mettiamo Io una volta ci ho provato credo di averci messo più di 6 ore a finirlo E' buono come tempo Cosa sono le cose fondamentali di una speedrun? Avere tanto cibo nell'inventario Va bene Una già l'abbiamo vista però non so se te l'hai vista Avere la legna nell'inventario Ok ma cos'altro abbiamo visto? Non lo so La pozza di lava Dove? Dov'è? Non l'ho vista Non hai visto la pozza di lava? Era davanti a noi Ah è vero è vero è vero ok ok Ti vengo incontro ti vengo incontro Ti ho visto adesso ma dove sei? Ti vengo incontro ti vengo incontro Carli il problema è che non abbiamo uno start Che è successo? Ho buttato la peccora nella lava Non abbiamo uno start Non abbiamo un villaggio Ah eh lo andremo a cercare ma tu ti senti che sei da questa direzione? Io andrei più a sinistra Proviamo va bene Carli l'ho visto E dov'è? Carli è qui no ferma 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 Carli ferma Guarda dietro di te esattamente Alberi Ah è vero è vero è vero L'hai visto solo adesso? Sì Ho un po' i chunks bassi Aspetta che gli aumento Ok Gli aumentati ok ok Ah quindi tu l'hai visto da chilometri in realtà Abbastanza Sì ma Carli sai ammazzare il drago con i letti? No No non lo so fare L'ho visto fare in live ma non lo so fare in realtà Zero? Zero Quindi non posso affidarti la Assolutamente no Non mi affidare nulla Io muoio subito Oh ci sono delle cose in ferro molto interessanti Sei già andata al fabbro? Sì Ossidiano Ossidiano Carli ci sono due fabbri Tre What? Ci sono No zi ci sono tre fabbri Ma dove? No il seed sembra finto così Carli te lo giuro che non ho toccato il seed Minch No Carli io sono tutto setupato da dio No dobbiamo ricominciare dici Allora te cos'hai? Perché magari il tuo fabbri è manor Aspetta vediamo l'ultimo fabbri Eh beh insomma io ho praticamente il full iron e sei l'ossidiano Aspetta guardo sto fabbri ti dico A zi Vabbè oh sembra finto ma Se non è finto lo giochiamo comunque Abbiamo tutto il portale in ossidiana Ebo giochiamo Oh Carli giochiamo e sti Cioè nel senso fosse stato finto ok Ma così Ah tu il piccone ce l'hai? Sì ce l'ho Ok e hai anche undici di ossidiana? Sì Ok però il portale lo facciamo con il ferro Ok Cosa il portale del ferro? Eh scusami Cioè No non è il minecraft ma Intendevo col secchio Allora Carli e te quanto cibo c'hai? Ho 5 pezzi di panna e 5 patate crude e 3 pezzi di mele Vieni ti do il cibo Quanta pietra hai preso? Ah nessuno ho preso i letti Ah ok ok No tra 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 prendo pietra Così ti do l'accetta e E cosa serve la pietra? Ci facciamo accetta e pala Ah giusto giusto ok ok Ha senso Ne faccio due Andiamo a fare il portale? Sì vai Lo petero? Sì Io vado a prendere la ghiaia solo Ah lo sai che io sono fortunatissimo con la ghiaia? Hai subito la flint Al primo colpo Te lo giuro No vabbè Fortunato in gioco allora Eh solo lì E tu sapresti fare un portale senza indicazioni? No no Io non lo so fare Non lo so fare nel modo che lo potete vuoi Ma tanto credo che Tanto credo che il titolo del video sarà tipo Aiuto Carli a finire minecraft Ti piace? Sì Allora prendi il suo secchio d'acqua Ok cosa ci devo fare con questo? Come funziona? Facciamolo semplice 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 Allora Il proprio guidato eh Ok Allora non puoi sbagliare Mettiti qui dove stavo io E metti la Guarda che muoge nella lava No devi mettere l'acqua sulla parete della pietra quella rivolta No Maro Non puoi sbagliare Nulla è perso Abbiamo ancora otto pozze di lava Allora vieni qui Metti l'acqua qui Cioè sotto Cioè su questo blocco? Sì ma dal lato quello rivolto verso di te Questo? Ok Bravissima Ok 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 Che cosa ho fatto qua? Tra nulla 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 È proprio il portale che mi immaginavo vai Cioè è brutto No Ok mancano gli ultimi due Ok qua in basso Sì Uno E due Ok Finito Allora Sai come funziona il nether? No Cioè in che senso come funziona? Cioè cosa ci serve nel nether? E dobbiamo commerciare Va bene va bene È un ottimo inizio Andiamo Oh È anche bello È anche bello Ah sai riconoscere un bel nether da uno brutto? Ma sì Qua almeno siamo spawnati Nella foresta rossa Qua come si chiama la foresta rossa? Oddio Oddio No No ce l'ha con noi Ah no neanche io c'ho la Vabbè tra questo muore subito Allora Carly Ho una notizia bella e una brutta Quella bella è che sembra troppo cittato Perché davanti a noi abbiamo una fortezza Ma dove la vedi la fortezza? Ma quanta rendere distanza? Cioè hai uno Lo vedi il fuoco? Sì La fortezza non la vedi? Iniziamo con la fortezza? Te la senti? Dai Ah Carly io so che il tuo ragazzo Non sa bene usare lo scudo Lo dice lui Non è un dissing Ok Sì sì no è vero Oddio Lo dice lui Basta avanza Allora Carly Noi dobbiamo arrivare Dal lato dei blades Ok Ok E cosa ci facciamo? Il trucco è non morire Prendere le blades Quindi adesso saliamo lì sopra Noi ora saliamo lì sopra Carly scudo sempre su ok Cioè ovviamente è quando non devi picchiare Ok il peggio è passato Non è vero la cosa che se entri nel nether con lo scudo Oddio Con lo scudo alzato Ti rimane sempre alzato Ma dove l'hai visto? Dove l'hai visto? Lo so L'ho sentito dire Voci narrano che sia così No 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 Però se entri nel land con lo scudo alzato Rimane sempre alzato Ah nel land Ok Non era nel nether No ma il video aiuto Carly a finire minecraft Prendite le blades Aspetta aspetta che ci sto morendo Vai Non scende Ma l'hai buttato fuori Eh ops Ma come l'hai buttato fuori? Non lo so Non importa Questi sono tuoi eh Quanti colpi stai dando? Ma che è una Oddio Ah zi Ma come Ma quanta vita c'avevi? Two hours later Ti vedo tutto Allora Carly mi raccomando Ammazzali adesso eh Ok aspetta che non riesco neanche a salire dalle scale Non importa Ci sono ancora i tuoi pantaloni a terra tra l'altro Non li avevo presi Oh vengo male Ok E' tua No ma guarda Ma guarda Vabbè tanto non ci muori sicuro Piccchio piccchio Quanto danno che fa? No ma non muori sicuro Vai tra Seven hours later Ah io le ho tutte le blaze rod volendo Però è un po' brutto Il casco E il casco Scusami lo scudo Non ce l'hai? Allora Carly vieni Andiamo via da qua Allora Carly in qualche modo le blaze rod le abbiamo prese Ma sai cosa ci serve adesso vero? Ti prego cosa serve ancora Il bastione Non possiamo andare E ce l'abbiamo davanti Hai idea di come si lutte un bastione? No Non ho più pallida idea Non ho neanche di averne mai visto uno in gioco Ok Non abbiamo l'armatura in oro Ti prendo un'armatura in oro Sono un cavaliere Aspetta un attimo Va bene Intanto mangio panini allora Ok Allora Carly tu dovrai starmi dietro E i piglin non ti attaccheranno Però Sarei tu comunque a romper i blocchi d'oro Va bene? Uh che responsabilità Va bene vai 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 ci sono Sai cosa ci serve da sto bastione? Cioè dai scambi Sì E le perle del land Sì 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 Più o meno quelle sì Allora Tra Qui non siamo in pericolo Però tra un po' lo saremo eh Tu stammi dietro ma non ho Hai blocchi? No Ti riprendo No ti insegno Ti faccio vedere la giocoleria Carly Io posso fare sta cosa solo per me E cosa sarebbe? È questo No Oddio non ci credo Ti aspetto qui eh Ok aspetta io salgo come le persone normali invece Tra 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 Uno due Non basta E Allora allora ti insegno Carly ti sto dando una porta Mettitela sotto e salta Carly io qui sto prendendo a fuoco No No Allora Carly non morire Allora forse Carly non buttarti Giù Allora Calma un attimo Dobbiamo arrivare lì sopra Ok Tu che blocchi c'hai? Eh niente Non ho nessun blocco Allora Ok dai Qua credo di riuscire a saltare È la portata di tu Ok tu sali sopra Esatto Sali lì sopra Sali lì sopra Ok perfetto Ok E possiamo rubare quest'oro? Sì no Tu non dovevi farlo Aia Oddio Dammi loro Oddio Cosa ho fatto? Sto tornando su Spero di aver preso la strada giusta Ah ce l'hai fatta? Sì 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 Allora mentre tu tornavi Carly Io ho già scambiato le Loro E ho già in realtà abbastanza perle Volendo possiamo anche uscire Ah e mi sa che ti ho preso tutte le perle Te le do a testa No 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 Tieni te le tieni Te le tieni Sei brava con le perle? No non le so lanciare benissimo Vabbè non è un problema Noi dobbiamo adesso cercare di spostarci E fare il portale in posizioni migliori Carly ci manca pochissimo Dobbiamo arrivare in quell'isoletta E lì potremo fare il portale Così almeno probabilmente saremo vicino alla stronghold Devi lanciare la perla come la lancio io Guardami Così Occhio a non prendere Cosa? Lì dove c'era quel signore maiale? Sì dove ci sono io adesso Occhio solo a non sbagliare il lancio Mi raccomando E cosa devo fare? Devo No No L'ho sbagliato Carly Che sembra fatto troppo apposta Te lo giuro Sto video sembra recitato Ti rendi conto? Carly sono arrivata Sono qua Ce l'hai fatta? Sei Dopo mezz'ora? Ok Ti stavo per buttare nella lava Carly mi raccomando eh Ok cosa devo fare adesso? Entriamo nel portale E adesso speriamo di essere vicino alla stronghold E che cos'è la stronghold? Dai dove troviamo il drago? Ah ok Sai come leggere le perle o no? Eh no Ah si Cioè che le lanci in aria segui la perla Esattamente faremo quello Ok io però non ho più materiale Ok verso di qua Dai verso di qua Si è già rotto il primo occhio Carly porta un po' sfiga Puoi lanciare te il prossimo Ok Si ha cambiato angolo Ha cambiato angolo Carly Si 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 ha cambiato Ha cambiato Ok ok Quindi dobbiamo andare a sinistra adesso Si sarà verso di qua Proviamo a fare in caso una triangolazione Una triangolazione Non attaccare il ragno eh Una triangolazione Dai non sai il significato Dai non la faremo Non so nulla di quello che stai dicendo Va bene non la facciamo Non la facciamo Che faresti tu? Aspetta provo a lanciare un altro occhio Lancio un altro occhio E te lo dico con più precisione Ancora avanti Ok Ok non si è rotto è quest'occhio Allora dovrebbe essere questo c'è anche qui Te lo dico subito Qua? Ok si è qui sotto È qua sotto Ok allora scaviamo Vai vieni A mano Non è un piccone? Ah è vero che hai perso 200 Tieni Ti ho dato il mio Ti ho dato il mio Ti ho dato il mio Tra tanto a me non serve il piccone Ok ok ci siamo Vedo un muro diverso Credo di averlo trovato Sì 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 è qua è qua Hai trovato la stronghold? Oddio oddio Cosa sono questi cosi argentati? Carly ti lancio un secchio d'acqua o Vabbè sti cazzi faccio un MLG Scendi Ma cosa fai perché sei morto? Vabbè tanto ho settato il respawn tranquilla Senti aspetta io chiudo tutto Ecco fatto Vieni vieni seguimi Dobbiamo andare alla stronghold Io non so dove sia però la troveremo Oddio creeper Oddio 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 Non ho più pane Oddio 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 odd Di questa Il peggio è passato Allora ti do qualche perla Non puoi sbagliarla È un dritto per dritto Ok Da che parte? Ok 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 Vai E infatti non l'ho sbagliata Vedi che brava che sono stata E dove sei? Ok 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 Vieni 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 Ok rimani lì Fermali immobile Allora Carly ti do due letti Esplodili quando te la senti Va bene? Ok li devo mettere lì dove c'è Sì mi sa che il drago sta scendendo Mi sa che il drago sta scendendo Carly vieni Ok ok Ti seguo ti seguo Non ho più pane Sono un poveretto Allora tu esplodi quei letti che c'hai E poi mi raccomando scappa Ok C'è scappa no Shiftati Di qua di qua dove sono io Ok Ora metti il letto lì Metti il letto lì Esplodilo quando te la senti Lì sopra Come faccio? Faccio io faccio io Togliti 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 Carly Non ci credo Ok No Carly è esploso un letto Abbattacca la testa Carly che facciamo? E non possiamo più fare niente Carly è finita Come è finita? In che senso è finita? Carly abbiamo perso Ma in che senso? Perché abbiamo perso? Oddio 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 Carly abbiamo perso Abbiamo un cuore Carly No no Non si inizia sempre bene Ok La prossima volta andrà meglio Ragazzoni Questa volta non ce l'abbiamo fatta Ma la prossima volta andrà sicuramente meglio Da Paris e Carly è tutto E al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video